Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo mio nuovissimo video. Io sono Dama Colleziona e benvenuti sul mio canale. Ben ritrovati ragazzi, oggi andremo a fare l'unboxing di un'edizione asiatica in Blu-ray più Blu-ray Ultra HD. Si tratta di uno dei film che preferisco di più in assoluto del regista Christopher Nolan. Il Cavaliero Oscuro e Memento sono fantastici, ma questo film mi ha letteralmente sbalordito la prima volta che lo vedi in sala. Un film che ha duro tantissimo. Il film in questione è The Prestige. E che dire, questa qui è l'edizione Manta Lab versione Full Sleep Lenticolar. Quindi troviamo il poster originale dell'epoca in questa veste lenticolare. Edizione limitata e numerata. La mia è la copia 831 di 1000. Ed è un'edizione superlativa. Io di solito queste edizioni asiatiche non le apro. Ne ho qualcuna ma difficilmente le apro un po' per un fatto di collezionismo. Anche perché di solito compro titoli che ho già in collezione. Quindi quelle le tengo e le compro prevalentemente per l'artwork. Ma questa qui la andrò ad aprire perché non vedo l'ora di vederla. C'è una Steve Book esclusiva per Manta Lab. Per questa lab è cinese. Voglio assolutamente aprirlo qui con voi perché merita alla grande. Qui troviamo il lenticolare Manta Lab. Qui c'è questo gaggettino The Prestige con la doppia... Sono due sticker, probabilmente. Sì, sono due sticker. Bianco e nero. E poi qui c'è il flyerino. Dove vengono riportate tutte le informazioni sul setup audio-video. Vi confermo che c'è audio italiano sia sul disco Blu-ray che sul disco 4K Ultra HD. E guardate. Vi rifaccio vedere il lenticolare. Spero che la Reflex riesca a mettere a fuoco e a mostrarvi degnamente l'effetto lenticolare che è sbalorditivo. E adesso ragazzi andiamo a cambiare l'inquadratura che così potete ammirare al meglio e in modo ravvicinato tutta la bellezza di questa edizione qui, Manta Lab. Eccolo qui in tutto il suo splendore il cofanetto Manta Lab numero 35, incentrato su The Prestige, il film di Christopher Nolan del 2006, basato sull'omonimo romanzo di Christopher Priest con Christian Bale e Hugh Jackman. L'artwork qui è uno dei poster utilizzati all'epoca dell'uscita. Troviamo Christian Bale e Hugh Jackman. Molto molto bello, a mio avviso. Qui dietro troviamo un bellissimo artwork. Quindi troviamo Hugh Jackman con una bambina. Quest'artwork qui è tutto in rilievo. Tutto tutto in rilievo. Ovviamente c'era anche il flyer con tutte le indicazioni setup audio-video. L'edizione contiene audio italiano sia sul disco 4K Ultra HD che sia sul disco Blu-ray. I dischi sono praticamente gli stessi di quelli usciti a livello internazionale, per cui non c'è niente di nuovo, i dischi sono sempre gli stessi. Non vi farò vedere i contenuti speciali perché sono letteralmente gli stessi usciti anche nell'edizione Amarai, qui da noi in Italia. Non c'è letteralmente nulla di nuovo. Ci sono comunque tantissimi speciali presenti sul disco Blu-ray. La pellicola dura 130 minuti, quindi 2 ore e 10. Flyerino cartonato, bello rigido e sostanzioso. Non si rovina tanto facilmente. E poi, dietro al flyerino, c'era questa bellissima immagine, questa bellissima chicca tutta in rilievo. La costina è così. Troviamo il logo 4K Ultra HD, il titolo The Prestige, leggermente in rilievo, leggermente in rilievo, il logo Mantalab, marchiato 35, quindi 35esima uscita, e il logo Warner Bros. E da questo lato qui, lato apertura, troviamo la Steelbook più il folder con alcuni gadget interessanti. Adesso, apriamo l'edizione. Troviamo subito il booklet. Io vi ho detto il folder, ma in realtà è il booklet. E poi, questa Steelbook qui esclusiva, ovviamente Steelbook che è incelofanata. Il booklet è bello sostanzioso, rigido. Non male, come robustezza. Che non è proprio rigido come le edizioni Arrow, come i box Arrow, o come i box Ultimate Collectors Edition di Warner Bros. È rigido, ma non così rigido come quei box lì. Comunque fa il suo. Andiamo a vedere la Steelbook, esclusiva di Mantalab. Quindi anche per questo motivo che ho comprato questa edizione, perché continua all'interno questa Steel, che è esclusiva solo per le varie edizioni Mantalab. Steelbook davvero magnifica. E poi qui c'è la scritta The Prestige, che non è in rilievo ma è scavata. È scavata. Bell'effetto. Qui dietro troviamo Scarlett Johansson, con qui i crediti della pellicola. All'interno la Steelbook è così composta. Troviamo il disco Blu-ray, che è questo qui, e il disco 4K Ultra HD, che presenta un artwork identico a quello dello slipcase lenticolare, perché è un artwork utilizzato per vari poster stampa, per vari poster promozionali della pellicola, nel 2006. E poi qui troviamo dei folderini, delle buste, con all'interno dei gadget, l'artwork interno di questa Steelbook è questo. Adesso mi avvicino un attimo, così vi faccio vedere nel dettaglio l'effetto qui scavato. Spero che si riesca a percepire. Adesso andiamo a vedere queste due bustine, cosa contengono. L'artwork è il medesimo, troviamo la scritta The Prestige in rilievo, con quest'artwork qui, che è un elemento importantissimo per la mitologia del film, quindi un uccello chiuso nella sua gabbia, in rilievo, totalmente in rilievo. Qui subito dal formato si evince che contiene un disco bonus con i contenuti speciali, quindi si tratta di un'edizione a tre dischi, disco 4K Ultra HD, il disco Blu-ray con il film, e il disco Blu-ray con i contenuti speciali. Anche questo disco era già uscito in varie edizioni a un video, quindi i contenuti speciali non sono nuovi, sono sempre gli stessi, però molto carino l'inserimento. Forse avrei preferito una Steelbook a tre dischi, ma va bene anche così. È un modo comunque elegante per inserire il disco bonus. poi qua troviamo questa busta con questa linguetta e all'interno troviamo queste mini cartoline e delle cartoline sono in totale cinque mentre queste sono in totale cinque, sempre cinque. Adesso ve le faccio vedere prima quelle grandi che sono stampate su un cartoncino lucido fotografico di una bella grammatura molto belle. Qui dietro hanno tutte allo stesso artwork The Prestige con l'uccello chiuso in gabbia le identiche. Adesso ve le faccio vedere singolarmente. molto belle come cartoline e adesso andiamo a vedere queste cartoline queste cinque piccoline che hanno come artwork questo qui il retro di uno spettacolo insieme a Vince che siamo in un teatro c'è il pubblico e tutte le magie illusionistiche sono piccoline per cui ve le faccio vedere così ravvicinate tutte insieme eccole qui le cinque mini cartoline con cinque personaggi principali del film stranamente manca Hugh Jackman stampate anche queste su una carta lucida ah eccolo qua scusate sono sei infatti mi sembrava strano erano incollate comunque sono stampate su carta fotografica di una bella grammatura di qualità molto belle di piccolo formato ma belle sono tascabili e presentano tutti i personaggi principali belle adesso andiamo a vedere velocemente il booklet booklet brusciurato stampato stampato su carta lucida fotografica qui troviamo sempre l'uccello chiuso in gabbia elemento cult dei prestigiatori degli illusionisti questo lato non troviamo nulla solo il logo warner brus booklet così composto booklet fotografico molto molto bello le pagine hanno una sostanziosa grammatura sentite sono belle sostanziose troviamo alcune immagini iconiche del film guardate sentite come la grammatura e qui troviamo le ultime due pagine di questo booklet edizione davvero magnifica ragazzi contiene il booklet 6 mini cartoline 5 cartoline più le relative a buste busta dei contenuti speciali steelbook esclusiva e slipcase lenticolare bene ragazzi abbiamo fatto l'unboxing di questa stupenda edizione della label cinese Manta Lab edizione limitata e numerata a mille copie la mia è la copia 831 di Mille film di Christopher Nolan fantastico ve lo consiglio alla grande per me è uno dei suoi più belli se non il suo più bello in assoluto quello che mi ha sbalordito di più ve lo consiglio questa edizione qui è davvero pazzesca per me è l'edizione definitiva volevo recuperare la one click ma le one click a me non piacciono tantissimo perché alla fine propongono l'edizione più e più volte i dischi sono gli stessi quindi alla fine io prendo sempre le edizioni lenticolari perché secondo me sono quelle particolari e perché francamente mi piace l'effetto ottico del lenticolare l'ho presa subito anche grazie alla steelbook esclusiva che per me è davvero fantastica merita alla grande davvero superba mi sento di consigliarvela adesso è più o meno fuori catalogo dovete recuperarla da privati ma vale ogni soldo speso c'è anche la versione double lenticolar che è addirittura più bella ma purtroppo non ho fatto in tempo a recuperarla mi sono dovuto accontentare della semplice single lenticolar e niente ragazzi fatemi sapere nei commenti qual è il vostro film preferito di Christopher Nolan se vi è piaciuto l'unboxing di questa edizione e se voi avete qualche edizione asatica nella vostra collezione a un video io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e vi do appuntamento fra qualche giorno con un nuovissimo e eccitante video a presto